Sul CIS, ancora di servizi e disagi nella sanità territoriale, a prendere nuovamente posizione sui recenti disservizi che hanno coinvolto anche l'ascensore nell'ospedale Sirai di Carbonia, è stato il consigliere regionale del partito Sardo d'Azione Fabio Zai che ha promesso di sollevare la questione in ambito assessoriale. Lavoratori Aias ancora lasciuto, anche questo ferragosto è passato per molti di loro all'insegna della deprivazione economica e materiale. Aumentano le proteste nei social per i 10 stipendi arretrati e per una situazione ormai diventata insostenibile. Ritrovate le due ragazze scomparse ieri a Porto Flavia. Le due escursioniste sono state rintracciate grazie a segnali provenienti dai loro telefoni cellulari, provvidenziale l'intervento dei vicini del fuoco. Un ferragosto da tutto esaurito. Quella appena passata è stata una settimana di ferie che ha visto numerose presenze turistiche nel territorio e in generale nell'isola. Molte le località prese d'assalto dai cittadini, dalle caratteristiche marine a quelle di montagna e ai sempreverdi agriturismi. Buon lunedì 19 agosto a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo la prima parte parlando dei nuovi disservizi negli ospedali del Sulcis Iglesiete. Dopo il guasto al sistema di condizionamento all'ospedale CTO di Iglesias nelle settimane scorse, nei giorni scorsi a guastarsi è stato l'ascensore dell'osocomio Sirai di Carbonia. Sull'argomento è nuovamente intervenuto con una nuova presa di posizione il consigliere regionale Fabio Usai. Vediamo i dettagli in questo servizio. Divampano le polemiche in ambito politico a causa dell'enesimo disservizio negli ospedali del Sulcis Iglesiete. Dopo i guasti nel sistema di condizionamento di diversi reparti del CTO di Iglesias delle settimane scorse, infatti nei giorni scorsi a guastarsi è stato l'ascensore dell'ospedale Sirai di Carbonia al cui interno sono rimaste bloccate delle persone successivamente liberate solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Una situazione da più parti denunciata come inaccettabile e ancora una volta stigmatizzata dal consigliere regionale del partito sardo d'azione Fabio Usai che ha preannunciato un nuovo intervento nella Commissione Sanità della Regione e nei confronti dell'assessore Mario Nietu. Usai, tra i pochi consiglieri della sua maggioranza a non aver votato il provvedimento di legge che ha destinato ingenti risorse alla sanità privata del Mater di Olbia, da tempo chiede maggiori risorse economiche per il territorio per la gestione di queste emergenze che mettono a dura prova il lavoro dei sanitari negli ospedali e contestualmente la prevalenza degli utenti nelle strutture. Una richiesta finora inascoltata, ma chi più passa il tempo, visti anche i continui disservizi, denoso come i territoriali, è sempre più necessaria se non indispensabile. Il timore non troppo celato in molti ambienti politici e sinacali è che lo stanziamento di 150 milioni di euro verso l'ospedale Galurese di proprietà della Qatar Foundation, altro non sia che la prosecuzione della dottrina avviata negli anni scorsi di depotenziamento della sanità pubblica a favore di quella privata. Tesi tutta la dimostrare, anche se i segnali provenienti da molti ospedali pubblici dell'isola la confermerebbero in pieno. Sull'argomento nei giorni scorsi è intervenuto anche il decano della politica sarda Giorgio Oppi che ha auspicato, perlomeno, che il Mater di Olbia possa servire a ridurre la mobilità passiva, in particolare sui cosiddetti viaggi della speranza. Anche se secondo l'esponente dell'Udc, più volte assessore regionale alla sanità, non è più procrastinabile un piano organico e serio che rilancia il settore sanitario nell'isola a partire dal potenziamento degli organici e mettendo da parte le soluzioni tampone finora utilizzate. E adesso cambiamo argomento e parliamo di lavoro. Anche questo ferragosto, dopo quelli degli anni precedenti, è passato all'insegna della deprivazione per i lavoratori Aias che da tempo attendono il pagamento di 10 stipendi arretrati. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore alla sanità Niedu e dal presidente del consiglio regionale PAIS sulla possibile risoluzione dei loro problemi, ancora nessun passo in avanti in concreto è stato effettuato. Vediamo. Si è rinnovato anche per quest'agosto, come ormai da diversi anni, il momento di crisi e difficoltà dei lavoratori Aias che anche nei giorni scorsi non hanno fatto mancare la propria voce di protesta nei social network, stavolta nei confronti dell'assessore alla sanità Niedu e del presidente del consiglio PAIS che avevano recentemente promesso, alla presenza anche dei capigruppo dei partiti, di poter definire una soluzione concreta per i 10 stipendi arretrati dei dipendenti dell'associazione di sostegno agli spastici entro 72 ore, con la formula tutta da verificare della sostituzione della regione nei confronti dell'azienda nel pagamento degli stipendi già a partire dal mese di luglio. L'impegno dei decisori politici regionali aveva poi portato alla sospensione del presidio da parte dei lavoratori Aias fiduciosi che finalmente il proprio problema sarebbe stato affrontato col piglio giusto. Ma ancora oggi hanno denunciato il 16 agosto scorso nei social diversi dipendenti nulla di questo nuovo impegno è stato concretizzato e il risultato è stato che i lavoratori Aias hanno passato un ferragosto senza certezze sul pagamento degli stipendi e in una condizione di evidente deprivazione economica e dunque materiale. L'auspicio è che dalle parole si passi ai fatti e che la situazione di questi lavoratori, così come quella dell'associazione che attende risposte concrete sul fronte dei crediti esigibili, dovuti e non dovuti, sia finalmente sanata dopo anni di promesse, proclami, progetti insostenibili e davvero pochi fatti. Chiudiamo la prima parte parlandovi della visita effettuata nei giorni scorsi dal sottosegretario alla difesa Angelo Toffalo del comune di Carbonia. L'importante esponente del governo è stato accolto dalla sindaca della città Paola Massida. Vediamo. Nei giorni scorsi era presente a Carbonia in visita il sottosegretario di Stato alla difesa Angelo Toffalo. L'esponente politico istituzionale, accompagnato dal capitano della compagnia dei carabinieri Lucia Di Rio, ha incontrato la sindaca della città Paola Massida, la quale si è complimentata con la dottoressa Di Rio per l'incessante lavoro intrapreso dai carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini nel sulcis iglesiente e contestualmente ha avviato una discussione con l'importante esponente del governo su tutte le tematiche di diretto interesse e pertinenza del suo ministero. La visita si è conclusa con i ringraziamenti dell'amministrazione al sottosegretario e l'invito a tornare in visita prossimamente nel territorio. Ben ritrovati in studio, apriamo la seconda parte con la cronaca. Ieri sera i vigili del fuoco del distaccamento di Glesias sono intervenuti nel territorio di Masua in prossimità di Porto Flavia per soccorrere due giovani ragazze che si erano perse durante un'escursione a piedi. Le escursioniste sono state individuate tramite segnali provenienti da loro telefoni cellulari e la successiva identificazione dell'area nella quale si erano smarrite subito dopo il tramonto del sole. Quello appena passato è stato un ferragosto all'insegna del tutto esaurito nelle strutture ricettive sarde e dell'intero territorio. Molti turisti presenti e numerose le mette ambite per passare il periodo di ferie. Vediamo meglio com'è andata in questo servizio. Quello appena passato è stato un ferragosto all'insegna del tutto prenotato o quasi nel sulci siglesiente. Le spiagge brulicanti di persone, come sempre, sono state la prima scelta dei turisti e dei cittadini del territorio. Ma in tantissimi hanno scelto di passare la particolare giornata di festa nei ristoranti e negli agriturismi, forieri delle migliori prelibatezze di cibi tipici della cucina sarda. Non è mancato nemmeno chi ha scelto la montagna per passare in spensieratezza la giornata e magari per ricercare un po' di sollievo al caldo, in particolari località come le grotte di San Giovanni e Domus Dovas, dove la frescura è garantita in qualsiasi momento. Il dato eccezionale, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti degli albergatori e delle strutture ricettive, andando oltre le polemiche ferragostane tra notti personaggi pubblici come briatore e rappresentanti della regione Sardegna, è stato quello delle presenze turistiche, notevoli in tutto il periodo di ferragosto al punto di aver fatto segnare il tutto esaurito in moltissime attività. Una condizione di buon auspicio dunque per il comparto nell'isola, che se fosse adeguatamente sostenuto e promosso, potrebbe uscire dalle catene della stagionalità e diventare realmente uno dei settori trainanti del PIL regionale. L'associazione Sulcis da Scoprire invita tutti a partecipare all'iniziativa organizzata per il 25 agosto prossimo nel litorale che da Portobotte va verso Suvortu e Sudregu. I partecipanti potranno percorrere quel tratto di mare in kayak ed esplorare così la bellissima costa del Golfo di Palmas. Il costo dell'escursione sarà di 20 euro per persona. Ogni aderente all'iniziativa dovrà munirsi autonomamente di kayak, pagaia e giubbotto di salvataggio e presentarsi nel punto di concentramento previsto per le 7 e mezza del mattino nei parcheggi della spiaggia di Portobotte. Ben ritrovati in studio, apriamo la terza parte come di consueto con gli eventi. Il 23 agosto prossimo si terrà a Barbusi la 27esima edizione della Sagra del Raviolo. L'evento al via alle ore 20 e 30 nel centro del paese sarà animato dalla scuola di ballo di Emanuele Leda e Silvia Loi. Torna il 28 e 29 agosto prossimi a Porto Scuso la manifestazione Calici in Tonara. L'evento, giunto alla terza edizione e interamente dedicato alle eccellenze enogastronomiche, vedrà la partecipazione di diversi ospiti quali la conduttrice televisiva Tessa Gelisio e gli chef Achille Pinna e Roberto Serra. Martedì 20 agosto il nuraghe Cucu di Trattalias sarà fruibile e quindi visitabile dagli appassionati di archeologia e in generale dai cittadini. L'iniziativa, promossa dall'associazione Sulcis da scoprire nell'ambito della rassegna nuraghi sotto le stelle, sarà l'occasione per godere delle meraviglie del territorio circostante grazie all'escursione organizzata per l'occasione dal paese di Trattalias fino al sito nuragico. Il nostro Tg è concluso, a seguire andrà Noasa in curso il nostro telegiornale in lingua sarda, grazie di averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.